devo dire che alla luce anche di questo malessere così diffuso in tutta europa ci auguriamo che presto la commissione metta nero su bianco alcune delle proposte che sono state tante centinaia di proposte che sono state avanzate innanzitutto qui dal parlamento europeo dalla commissione agricoltura e parlamento europeo e poi dal consiglio agrifisce cioè dai ministri dell'agricoltura bisogna semplificare tutto quello che si può semplificare immediatamente da questa pac pac che è stata fatta tre anni fa quindi condizioni completamente diverse dalle attuali non c'era stato il copio non c'era stata l'invasione russa dell'ucraina quindi in condizioni diverse bisogna cercare di venire incontro attraverso della semplificazione che noi del parlamento chiediamo che siano strutturali fisse almeno fino al 2027 quando dovremo riformare la politica agricola comune dovremo avere una nuova pac per fare queste riforme strutturali occorre una modifica degli atti di base ma sappiamo che anche se c'è pochissimo tempo se c'è la volontà politica della commissione di fare la proposta noi come parlamento possiamo andare verso un sistema rapido una simplify procedure come si dice una procedura semplificata per evitare di perdere tempo e di dare subito immediatamente risposta agli agricoltori e poi occorre credo di mettere un freno da questa importazione l'ucraina noi vogliamo assolutamente aiutare gli amici ucraini questo non c'è dubbio però non è che possono essere solo gli agricoltori a pagare questa situazione che vuol dire clausole salvaguardie magari anche uno stoccaggio pubblico per comprare prodotto ucraino tenerlo nei nostri magazzini e spedirlo nei paesi in via di sviluppo dove ce n'è maggiore bisogno